La moglie Messi Doha, Qatar, l'Argentina è ai piedi di Lionel Messi, che sta trascinando la selezione ai mondiali in Qatar dove ora sfiderà la Croazia in semifinale. Ma radonizzato nella grinta che sta mettendo in campo è finalmente leader dell'Albi Celeste. Al termine dell'infuocato quarto di finale vinto i rigori contro l'Olanda il numero, 10, si è reso protagonista di una lite in diretta TV con Uyghurst. Autore della doppietta che aveva riportato a gala gli Orange. Tormentone social una scena divenuta presto virale sui social. Dove i tifosi sono impazziti però anche per l'imitazione del marito fatta da Antonella Roccuzzo, cum iras bobo. Andaparalla ovvero cosa guardi idiota? Via via, vai dice Lady Messi in un video che spopolla su TikTok usando le parole della pulce. Un vero e proprio tormentone ormai che i tifosi argentini sperano di poter ripetere come un mantra fino alla finale di Doha, virgola.